Parliamo ovviamente di trasporti e delle tante problematiche che il settore sta affrontando in questo periodo. Iniziamo dal costo della benzina. Sappiamo che alcune accise sono state sospese temporaneamente, un risparmio di circa 25 centesimi al litro, ma non proprio così per il settore del trasporto, vero? Sì, per noi è stata quasi una beffa questa riduzione che chiaramente ha fatto comodo a tutti perché alla pompa chiaramente si è vista una diminuzione del prezzo del gazzolo e della benzina che avevano raggiunto prezzi superiori a 2 euro, per noi è stata un po' una beffa perché una riduzione della accise era già prevista per i trasportatori e chiaramente questa riduzione è stata sospesa perché è stato concesso questi 25 centesimi a tutti. Per cui diciamo che è stato un po' un autogol per noi, chiaramente non siamo contenti di questo discorso perché alla fine per noi è stata quasi un'operazione a zero, ecco, di pochissimi centesimi per cui i trasportatori e le associazioni sono ancora in attesa di interventi specifici del governo proprio per le nostre aziende. Interventi specifici se ne sta proprio parlando in queste ore, è vero? Sì, ci sono stati una serie di incontri, in questo mese che è stato per noi un mese abbastanza complicato è stato prima programmato un fermo che poi è stato sospeso appunto a seguito di questi accordi raggiunti col governo il governo ha messo sul piatto 500 milioni di euro per la nostra categoria adesso si tratta di spendere questi 500 milioni di euro per cui siamo in attesa dei prevedimenti, sembra che a brevissimo uscirà un decreto che prevede un credito d'imposta sempre sul prodotto, sul costo del prodotto del gasolio per cui speriamo che effettivamente questo arrivi in tempi brevi perché chiaramente le aziende sono in grossa difficoltà e questo sarebbe una grossa boccata d'ossigeno per il nostro settore. Voi siete ovviamente un'associazione e quindi anche un punto di riferimento per i trasportatori e per i vostri associati quali sono le più grandi preoccupazioni, le perplessità? Immagino appunto che si rivolgeranno a voi per avere insomma un po' di chiarimenti e per poter vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Sì, abbiamo ricevuto queste settimane numerose telefonate per cercare di capire qual era la situazione, quali possono essere le prospettive stiamo aspettando questo decreto e rerogazione di questi stanziamenti perché le aziende veramente ne hanno bisogno e non riescono veramente a far fronte agli impegni visto l'aumento indiscriminato dei costi e la difficoltà appunto a ribaltarli poi sulla committenza per cui speriamo veramente che nei prossimi giorni questi provvedimenti riescano e vadano anche a premiare le aziende più virtuose.